Sono ancora giorni difficili questi per la pandemia e lo sappiamo tutti, ma ci sono dei dati che sono francamente positivi e dei quali essere fieri. Nella scorsa settimana sono state fatte dalle forze di polizia 23.244 controlli nelle nostre piazze e nelle nostre strade in Veneto e solo 325 sono stati i cittadini che sono stati sanzionati, sono stati fatti 5.609 controlli negli esercizi commerciali, bar e ristoranti e solo 24 sono stati sanzionati. Questo significa che ciascuno di noi si sta comportando bene, con un senso di responsabilità ed è quello che dobbiamo fare. Da un lato ringraziamo le forze di polizia per lo straordinario lavoro che stanno facendo, dall'altro il nostro futuro, la nostra salute, la ripresa della nostra vita normale dipende da noi, dai nostri comportamenti. Noi Veneti siamo nella direzione giusta.